ciao benvenute nel canale filati da sogno era dopo che volevo farvi la recensione dei filati di dicembre però per un motivo per l'altro ho sempre dovuto aspettare 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 intanto arrivavano altri filati e via dicendo però oggi è domenica ieri ho appena postato l'ultimo lavoro che ho fatto e ho detto ma quasi quasi mostro almeno brevemente i nuovi filati che che ho provato anche perché è un peccato sarebbe un peccato farveli perdere visto che di molti di molti filati di cui vi parlerò ci sono veramente pochissimi pochissimi pezzi come sempre come sempre tutte le volte è così partiamo subito allora questo è un filato che avevo preso circa 15 giorni forse 20 giorni fa e anche questo è un filato che non non ci sarà più quindi praticamente è un peccato perché veramente bello è un sel winter parliamo del 25 per cento di lana il 75 per cento di premium acrilico ed è quel premium acrilico che a me personalmente piace moltissimo praticamente è un filato cotonoso morbidoso non so se riesco a farvelo vedere mentre mentre lo tocco quanto è morbido e lo vedrei veramente molto molto indicato con un uncinetto numero 5 la trama viene perfetta a mio parere a mio parere morbidissimo non pensate minimamente di avere tra le mani un acrilico perché proprio non sa assolutamente di acrilico e sapete che quando parlo così e perché veramente lo trovo morbido e bello bello proprio al tatto ok ci vedrei molto bene un poncio con questo ma non per questo non si possono fare delle bellissime sciarpe cappelli tra l'altro ho pubblicato appunto sempre ieri un bactus che potrebbe andare benissimo avrebbe ancora più spesso 8 di come l'ho fatto io o un bel cardiganone è un bel cardigan sinfonia importante veramente caldo quindi è un bel un veramente un bel filato io ho scelto dei colori molto tenui vedete poi va proprio sfuma proprio nella colorazione dal grigio chiaro fino a un colore al bicocchino più o meno e ci sono altri se non ricordo male altri due colori di questo filato del quale vi metto sempre sotto il video il codice per poter il codice il link proprio per poterlo ritrovare subito così andate a vedere i colori disponibili per per poterlo eventualmente acquistare il lotto composto da 400 grammi quindi ogni gomitolone che voi vedete qui sono 100 grammi quindi ne riceverete 4 ok nella confezione che voi vedete quindi questa confezione e cos'altro dirvi null'altro di questo è eccezionale come ve lo mostro riesco a farvelo toccare nel miglior modo poi lo sto proprio paciugando è poverino sto proprio facciugando ma è proprio solo per mostrarvelo per bene poi tanto vedete si rimette a posto passiamo al prossimo il prossimo che voglio mostrarvi è un filato tra i nuovi arrivati si chiama prato e prato praticamente io l'ho preso perché mi piaceva moltissimo questo tipo di colore a dirvi la verità argento perché ne avevo bisogno va bene adesso bisogna per fare la bordura del capottino di gaia e mi serviva proprio questo colore argento quindi io ho preso il colore argento proprio per provare questo tipo di filata e sono rimasta veramente entusiasta anche perché è vero che possono servire come bordura ok per i nostri progetti mi piace anche la sensazione al tatto vedete che ha proprio tipo una catenella che che tiene tiene questi pelucchi che appunto formano formando messi proprio accanto potrebbero sembrare un prato forse per quello l'ho chiamato così la lavorazione è facilissima anche perché si vede molto bene anche la catenella sottostante vedete la catenella si vede quindi volendo si riesce molto bene molto bene insomma con un po di pazienza ma si riesce a fare anche i vari giri di andate e ritorno ed è quello che vorrei fare io perché vorrei fare tipo avete presente quelle copertine belle morbidose ecco io vorrei provare a fare una di quelle copertine morbidose tant'è che ho preso due colori da abbinare insieme che mi piacciono moltissimo l'argento e questo non so definirlo a dirvi la verità come colore comunque sia eccolo qua il colore è questo è un azzurro gnolo ma bello bello veramente bello come colore questo filato prato si chiama dicono con i feri che si lavora con i feri numero 6 è relativo relativo perché io per esempio ho lavorato questo il capo di gaia l'ho lavorato se non ricordo male col tre e mezzo e col tre e mezzo ho lavorato anche la bordura finale ok quindi dipende dipende da cosa dobbiamo fare e ovviamente 100% poliestere e avrete sempre 400 grammi in un lotto quindi ricordate per chi non ha mai fatto acquisti nel mio negozio online sappiate che quando voi vedete il prezzo il prezzo è inteso per l'intero lotto e c'è scritto quanti pezzi ci sono in un lotto quindi vi dicono che ci sono ogni ogni gomitoli da 50 grammi vi dicono quanti gomitoli voi trovate in un lotto in questo caso sono 50 grammi in totale sono 400 grammi ripeto quindi sono 8 gomitoli voi vedrete che c'è scritto il numerino 8 inteso come 8 gomitoli da 50 grammi ok solo per spiegare bene come come capire no quanti a parte che c'è scritto un lotto normalmente il lotto è da 400 grammi se no comunque sempre ben specificato ok e molte mi chiedono come si fa a vedere quante sono le spese di spedizione visto che comunque i prodotti arrivano direttamente dalla casa madre in turchia basta semplicemente inserire il vostro lotto nel carrello quindi lo inserite nel carrello cliccate sul carrello e vedete così il prezzo della spedizione in base al peso di quello che voi avete inserito nel carrello ok così ho approfittato anche per specificare questo quindi prato prato è molto bello sia per fare delle bordure ma anche per fare delle copertine di quelle sfiziosissime morbidissime che io vorrò fare abbinando i due colori passiamo al prossimo e che ne dite di questo alpaca punto guardate che filato uno tra le novità che sono venute fuori da pochissimo allora alpaca punto parliamo intanto di quello che abbiamo nel nostro filato allora abbiamo il 20 per cento di alpaca il 20 per cento di superwash extra fine merino quindi lana 42 per cento di acrilico e il 18 per cento di poliamide è un insieme di bellezza e un insieme di bellezza e anche questo sofficissimo sofficissimo io ho preso quello con con il colore tipo bordeaux che come vedete scende poi e va nel grigio e ha questi filati quindi non so se notate che c'è proprio all'interno questo filo più chiaro con tutti i pompon che avvolge proprio il filo e non dà assolutamente fastidio mentre noi lo creiamo quindi mentre noi lo lavoriamo io francamente questo proverò con questo proverò a farvi un tutorial base ai ferri perché penso che sia l'ideale proprio per ma non prometto niente perché in questo periodo con i ferri mi annoio non so perché è una mia pecca e pensate che io ho iniziato la mia vita diciamo ho iniziato questo hobby della creazione manuale con i filati grazie a mia nonna eccetera eccetera con i ferri non con l'uncinetto l'uncinetto è venuto con un paio d'anni dopo però in questo periodo mi sta dando molto molta soddisfazione l'uncinetto quindi mi ci metto sempre a dire ok dai riprendiamo i ferri in mano poi dopo però ritorno al mio uncinetto quindi diciamo che l'idea è quella di farvi uno scialle con questo con questo filato perché uno di quelli caldi e non finti uno di quelli proprio car come piacciono a me uno di quelli o deve essere fresco d'estate deve essere caldo d'inverno quindi uno di quelli cali se mi riesce di ritornare ferri sapete che per me deve essere un divertimento quindi se mi diverto lo faccio altrimenti no non sono non mi sento sei di dover fare un tutore se non do il cuore dentro quindi a volte fa inizio qualcosa un progetto poi vedo che non mi sto divertendo stoppo tutto e torna indietro disco tutto questo non so neanche eventualmente per se dobbiamo disfarlo se si disfa bene o si disfa benissimo quindi a prova marina è perché io sono bravissima a fare di fare soprattutto di fare i miei lavori quindi come dicevo si può usare anche ad uncinetto e quindi eventualmente non mi deve non dovessi divertirmi con i ferri o dovesse annoiarmi ritorno al mio uncinetto perché si lavora molto bene in questo momento lo sto lavoro lo sto lavorando con il 5 però si può si potrebbe anche esagerare e passare al 6 in questo momento il 6 non ce l'ho di là e quindi io vorrei voglio provare ad utilizzare il 7 diventa è più morbido non c'è niente da fare ecco perché io non guardo mai neanche cosa c'è scritto sul sul bugiardino se le targhetta lui dice il 6 perché sì è vero indicativo dice ferri numero 6 quindi che è un pochino diverso no da dall'uncinetto però vi dico la verità io vado a sensazione io devo provarli i miei filati devo vederli devo devo prima di creare devo sentirli quindi per me la cosa principale per esempio quello che sto facendo in questo momento con voi è quello che normalmente faccio cioè faccio una diciamo sottospecie di prova è di campioncino diciamo così per vedere con cosa con una maglia semplice quindi in questo caso sto usando sto provando con una maglia alta con cosa quanta morbidezza mi dà uno o l'altro uncinetto solo dopo decido in base poi ai punti che voglio utilizzare se può andar bene o meno quell'uncinetto e ha giusto il tiro ecco quindi come vedete si lavora benissimo qui abbiamo usato l'uncinetto numero 5 che va anche bene ma mi piace di più vedete il 7 addirittura mi piace moltissimo col 7 quindi un lavoro che va avanti velocemente quindi non solo una stola potete fare una stola anche molto semplice solo col punto alto magari con qualche archettino senza troppo complicarvi la vita perché è già ricco di suo è meravigliosamente ricco di suo immaginate un poncio un poncio fatto così cioè ma è veramente graziosissimo quindi anche di questi non pensate ce ne siano moltissimi e quindi se vi piacciono andate a vedere i colori perché io ho scelto questo ma ero molto indecisa sui sulle varie tonalità quindi se vi piace fidatevi è morbidissimo quindi su questo non vi dico nulla è l'unica cosa e dovete utilizzare un uncinetto che sia sì per la vostra mano ma non non troppo piccolo perché altrimenti diventa troppo compattoso ok dobbiamo invece lavorare sempre in modo morbidoso come lui morbidoso come lui ok anche questo ovviamente sono si vende solo esclusivamente a lotti e un lotto quindi il prezzo che voi vedete e corrisposto corrisponde a 400 grammi un lotto a 400 grammi ogni gomitolo e da forse dell'altro non viene anche detto la lunghezza forse neanche qui me lo specificano sì invece se ogni gomitolo e cinque sono 50 grammi e 80 metri per ogni gomitolo quindi non c'è moltissimo come lunghezza ok abbiamo detto che sono in tutto 400 grammi controllo è per non dire sciocchezze fermi tutti sono 300 grammi ok sono 300 grammi quindi voi riceverete 300 grammi di filato ho voluto controllare perché mi era venuto un dubbio perché a volte io sì ho qui il pacco però a volte prendo per fare delle prove quindi non so mai se ho preso di uno dell'altro non so se capita anche a voi ma quando arriva un filato io lo devo provare immediatamente quindi a volte mi mancano dei gomitoli perché l'ho lasciati ad essere manca ok detto questo queste al pac appunto quindi mi raccoma una cosa sul sito sto parlando adesso il mese di dicembre magari voi chissà quando mi guarderete però nel mese di dicembre 2018 ovviamente ci sono degli sconti su tutto il sito a partire dal 5 per cento fino arrivare al 90 per cento di sconto quindi se avevate intenzione di fare un ordine sbrigatevi a farlo adesso finché c'è disponibilità e non fatelo troppo ridosso del natale ok quindi mi raccomando velocizziamo il tutto passiamo al prossimo e ora voglio presentarvi il filato che uno dei filati che mi ha colpito maggiormente allora questo filato si chiama donna non so perché non è stato messo subito nelle in prima pagina sapete c'è messo subito sai come dire è appena arrivato cioè con un megafono no no e per puro caso diciamo che l'ho trovato e sapendo e conoscendo i filati che non tutti però la buona parte li conosco quelli che a me piacciono poi soprattutto ho visto questo donna lì poverino tutto solo solo detto tu chi sei sono andata a immediatamente a fare un ordine per conoscerlo di persona e non è che mi ha stupito molto di più molto di più e un filato come dire voglio paragonarvelo al prima donna per farvi capire quello che provo mentre lo lavoro ok ha però queste sfumature non so se notate vede vedete mentre io le lavoro guardate a queste sfumature intrecciate cioè a torciglione sul filato quindi praticamente cosa succede e delizioso e ragazzi da lavorare è meraviglioso per favore non perdetemi questo per questo filato perché veramente incredibile allora guardate le sfumature quello che ho scelto io e la più tenue ce ne sono altre bellissime io ho scelto la più tenue ma ho già nel carrello altri colori perché questo non mi scappa di sicuro quindi si passa da un giallo col torciglione su l'arancio poi passiamo a un salmone col torciglione beige poi abbiamo cos'è questo un violetto col torciglione azzurro poi va bene albicocca e viola come vedete cioè è meravigliosamente colorato ma quasi non torna allo stesso colore non so se mi spiego riesco a farvi capire vero cioè qui partiamo con l'azzurro io sto guardando solo questa parte quindi si parte con questo azzurro chiarissimo quasi cenere con un albicocca poi arriva con l'azzurro e il chiaro azzurro e albicocca che quello che sta usando sto usando io poi rosa con il lilla l'azzurro qui cos'è con la viola il chiaro col viola il salmone cioè è una gradazione continua cioè capite vero cosa voglio dirvi quindi io non vedo la ripetizione dello stesso colore secondo me va in una sua e lo voglio assolutamente provare la sfumatura parte da un colore e arriva in un altro colore sempre con questi torciglioni di colore e meravigliosamente cotonoso e morbido morbidoso si lavora alla grande con l'uncinetto numero 5 quindi qui si possono fare tante di quelle cose ma proprio tante che ho voglia di lavorarlo se non fosse che ho già iniziato 2 miliardi di lavori non esageriamo 5 6 ce li opero in atto si chiama donna donna che nome meraviglioso questo è il codice vi comunque vi metto vi inserisco il link proprio sempre sotto tutto ciò che vi sto mostrando lo troverete con il link sotto il sotto questo video questo questa recensione in modo tale che senza neanche far tanti gesti basta cliccarsi open date a trovarlo sul mio sito e sono 100 grammi qui sono 400 grammi di filato ogni 100 grammi sono 175 metri di lunghezza abbiamo un 70 per cento di lana un 30 per cento di acrilico ecco questo vedete lilla salmone e shadow lilla salmone e qualcos'altro ma lo vedete qui quindi e ci sono veramente tantissimi tantissimi ci sono tanti bei colori non tantissimi qualche bel colore ce ne saranno non mi ricordo 6 7 8 non mi ricordo ce ne sono di bellissimi ragazze se volete un consiglio se volete fare un poncio un giaccone uno sciarpone una mantella tra l'altro ne una in preparazione magari dopo vi mostro una mantella eccetera eccetera provatelo provatelo perché veramente deliziosa anche solo per fare fiocco di neve il cappello e la sciarpa anche questo va benissimo per poterlo creare e delizioso donna a dopo che con l'altro filato qui invece abbiamo un altro filato molto sottile si chiama angola angola si va bene ancora active questo è un filato pelucchioso ovviamente pelucchioso io non amo stringere con con gli uncineti quindi lo sto provando direttamente proprio davanti a voi perché ancora non l'avevo provato con l'uncinetto numero 4 allora questo se dovete fare delle maglie molto raffinate avete presente proprio di quelle un più sottiline però calde ovviamente ecco questo è perfetto allora con l'uncinetto e ovviamente pelucchioso ve l'ho detto no c'è e angola e quindi è sofficissimo morbidissimo guardate non io volte li temo un po questi qua invece è veramente morbido a volte faccio proprio prova mano per cercare di capire se mi dà fastidio invece è veramente morbidissimo qui si chiama innanzitutto angola active e abbiamo un 25 per cento di angola e un 75 per cento di acrilico e un nuovo bimbo nato quindi è nato da poco e ci sono sempre 100 grammi per ogni gomitolone e ne troverete quattro sono quattro gomitoloni per ogni lotto ogni gomitolo a 500 metri praticamente un'infinità ragazza un'infinità di filato è veramente notevole anche qui vedete i ferri numero 4 io combinazione uncinetto numero 4 credetemi non avevo neanche letto ma è come ripeto tutto quello che scrivono e sì per darci una mano ma è davvero relativo cioè dipende poi sempre dalla mano e da ciò che noi dobbiamo creare quindi per chi ama i filati d'angora d'angora questo è veramente un filatone ancora è morbidissimo io ho scelto le tonalità del grigio c'è un rosa un po più forte del lilla vedete ci sono le varie tonalità qui francamente non mi viene in mente che cosa in questo momento che cosa ci potrei fare però per esempio anche il progetto che io ho fatto aurora farlo in angora aurora invernale in angora così sottilino e raffinato secondo me ecco solo per darvi l'idea di che cosa intendo io con questo filato ok quindi secondo me con questo e verrebbe benissimo quindi questo è un altro filato nuovo ovviamente io ho scelto questo colore ma voi sceglierete il colore che vi più vi piace l'ho lavorato ripeto con un uncinetto numero 4 come vedete la lavorazione viene benissimo con il 4 quindi secondo me anche per voi andrebbe qua però dipende da cosa dobbiamo fare mi raccomando sempre più passiamo al prossimo guardate questo il mohair active cioè io già come l'ho preso in mano ho fatto solo le prime catenelle e io vi assicuro che questo lo preferisco io questo lo preferisco il mohair active e mi piace di più o poi l'altro e morbidissimo stupendissimo tutto quello che però se volete il mio parere questo qua mi piace di più questo qui proprio mi piace di più mi piace di più anche come fatto il il filato ha una torsione particolare e quasi non so se riesco a mostrarvela guardate come il filato è veramente stupendo aspettate che vi dico anche un po di storia del mohair active storia insomma cosa c'è scritto qui sul bugiardino mohair active allora abbiamo il 50 per cento di mohair e il 50 per cento di acrilico in 100 grammi anche qui mamma mia che giganteschi sono sono 500 metri 34 quindi con il 4 che stavo provando io va benissimo e ecco se volete qualcosa di l'altro morbidissimo ragazzi e poi io lo sapete che pane pane vino al vino questo mi piace di più è solo un mio gusto attenzione è un mio gusto però mi piace molto di più la luce che ha è il tipo di torsione che ha questo filato non peraltro è di una morbidezza paurosa è veramente stupendo se dovete fare la scelta su uno dei due filati pelucchiosi come li chiamo io che poi questo non è che abbia il pelo è solo un pochino più pelucchioso come dico io quindi se dovete fare una scelta tra i due e volete ascoltare il mio consiglio questo è ovvio che se potete prenderli tutte e due certamente sono diversi proprio come filati ma se dovete scegliere tra i due mohair active mohair active è veramente stupendissimo voglio solo vedere una cosa anche quando lo lavoro l'ho sentito immediatamente diverso proprio immediatamente ecco che qui con l'aurora ha fatto l'aurora con questo mamma mia da brivido ma anche fare nuvola nuvola col mohair active verrebbe una delizia tra l'altro sto facendo una stoletta una stolona comunque una stola di nuvola con un altro filato che dopo vi faccio vedere quello è da innamorarsi ma stanno finendo c'erano solo se non sbaglio tre colori quattro colori non mi ricordo più perché poi a volte mi confondo tra di loro e vi assicuro che è di una bellezza e di una finezza notevoli si è assolutamente questo lo preferisco si lavora decisamente bene ma mi piace proprio quello che sento io io lo sento subito abbiate pazienza sono talmente sensibile a oramai per qualsiasi filato che riesco a capire poi alla fine se questo lavoro riesco a indossarlo o meno perché poi quello il mio problema capito cioè io devo lavorare un qualcosa che poi indosso con e lo sento subito quelli indosso appunto senza sentire difficoltà o tattile o non pungiliosi neanche perché non li prenderei neanche se ce li ho comunque neanche li mostro perché sono orrendi quindi via 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 le cose orrende non non vanno lavorate non vanno lavorate non prendete filati scarsi perché poi alla fine tutto il tempo che utilizzate per fare una creazione alla fine poi risulterebbe un qualcosa di veramente scarso come il filato stesso i filati pregiati che sono questi e quelli che io vi mostro e della quale vi consiglio vi aiutano a creare qualcosa che diventa un gioiello un capolavoro un qualcosa che vi dura nel tempo sempre ovviamente lavandolo con una certa delicatezza però fare un qualcosa che dà effetto importante il filato è importante il filato per la creazione ok quindi sì è vero io guardate dopo vi faccio vedere ci sono degli sconti sul sito dove si prendono dei filati veramente a poco quindi magari se dovete fare qualcosa da un pat come si dice a torino va bene ci sta però prendiamo anche qualcosa quello va bene per fare cosette ok ma comunque anche nelle cosette noi dedichiamo il nostro tempo io poi è quello che ci penso ho voluto anche io provare perché sono stata presa da tutti questi sconti io come voglia perché questo come voi ho voluto provare appunto dei dei filati molto molto convenienti sono belli e sono belli perché comunque sia sembrerebbe che la partenza di questo prezzo sia molto più alto e quindi alcuni effettivamente sono piacevolmente e sono stati una sorpresa per me altri una delusione totale quindi tutto ciò che io vi recensisco lo faccio veramente in modo schietto e sincero poi tutto il resto ragazze poi ognuno ha la sua sensibilità le sue cose quindi io vi dico ciò che posso pensare io ok del tale filato quindi usiamo la sostanza è usiamo filati di una certa qualità per fare dei capolavori ok passiamo al prossimo beh chi è che non conosce il madonna come filato ovviamente nessuno oramai lo conosciamo tutti io ho voluto prendere questa tonalità perché mi mancava francamente un colore un pochino più più deciso tra la mia collezione di filati e quindi ho voluto scegliere questo colore e il madonna e il madonna ecco parlando appunto di filati preziosi filati che daranno un certo risalto alla nostra alle nostre creazioni e devo veramente dire che questo è stupefacente ma sicuramente tutte voi lo conoscete già chi non lo conosce lo deve assolutamente provare qui parliamo di del 40 per cento di lana il 30 per cento di mohair e 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 il 30 per cento di acrilico in 100 grammi abbiamo 300 metri lavorabile col 4 io questo l'ho lavorato anche col 5 quindi dipende ragazze dipende sempre dalla lavorazione che volete fare e di lui vi parlerò poco proprio perché talmente noto come filato e talmente conosciuto da tutti quanti che non voglio perderci più di tanto del tempo vorrei appunto farvi conoscere altri filati che non si conoscono piuttosto di questi già famosissimi chi non lo conosce ragazze provatelo provatelo questo ci fate qualsiasi cosa dalle maglie cardigan sciarpe cappelli beh i cardigan sono quelli che amo io quindi come dicevo cardigan provate a fare un sinfonia col madonna e sono sono ecco sono filati con la f maiuscola con la f maiuscola quindi madonna in in un lotto ci sono 400 grammi ve l'avevo detto penso di sì se non l'ho detto comunque in un lotto 400 grammi di meraviglia madonna passiamo al prossimo abbiamo visto quindi l'alpaca no questo è l'alpaca active noi abbiamo visto prima il mohair active l'angora active e parliamo adesso di alpaca active non vi fate spaventare sembra un qualcosa di molto scuro ma all'interno c'è del chiaro quindi io ho scelto un colore molto castagnoso per questo filato ripeto ho una collezione di colori e di filati e avevo bisogno di integrare colori accesi colori un po' più cupi più cupi oddio più scuri questo è un bel verdone che va nel verde chiaro parliamo dell'alpaca active appunto molto sottilino come alpaca meraviglioso filato meraviglioso filato sottilino come ripeto e abbiamo praticamente 4 odio qui ho perso lo 00 che cosa significa aspettate un secondo che guarda lo 00 manca l'uno praticamente sono dimenticati l'uno quindi abbiamo 100 grammi per ogni gomitolone morbidoso e sofficioso anche questo adorabile veramente scusate ma anche lui mi ha particolarmente colpito quindi sono 100 grammi per gomitolo 550 metri per ogni gomitolone qui si fa il mondo con 550 metri abbiamo il 20 per cento di alpaca il 20 per cento di lana il 60 per cento il famosissimo e adoratissimo premium acrilico allora li abbiamo visti tutti e tre perché io li ho voluti proprio scegliere tutti e tre questo è un intruso il famoso intruso ogni tanto quando io sono qui con voi arrivano gli intrusi allora questo è un altro filato prezioso ci sono dei dei colori che sono eccezionali stavo guardando mentre vi vi parlavo che sono eccezionali io ho voluto scegliere questo color che va dal color castagna al colore un po più scuro beige verde comunque sono delle sfumature meravigliose io immagino qui lo chalet sinfonia fatto con questo è veramente veramente bellissimo allora qui loro dicono il 3 come sapete io no questo non esageriamo però secondo me con un tre e mezzo proviamo con il 3 come dicono loro va anche tanto sì decisamente sì sì è proprio il 3 il suo sapete questa volta ci hanno proprio preso e beh loro sono molto più esperti di me è solo che io non è questione di sfiducia ma è solo che io sono sono molto tignosa cioè io dipende appunto dal tipo di filato e a seconda dei quali io posso cambiare completamente magari mi dicono il 3 ma per me va bene solo 4 dal 4 in su ok come al solito come al solito ormai chi mi conosce lo sa lo sa che non seguo una regola io seguo solamente il mio istinto ragazza è stupendo non vado avanti oltre ti dico già che è stupendo è meraviglioso per fare qualsiasi e parliamo di qualsiasi creazione che io ho nel mio canale ce ne sono ancora poche non sono tante ma qualsiasi da quelle estive a quelle invernali potete crearlo con questo è veramente stupendo vi ricordo il nome alpaca active vi lascio sempre sotto il sotto questo tutorial tutti i link mi raccomando andate a vederlo stupendo colori meravigliosi questo è un po scuro è un po scura io non sono molto per i colori scuri ma questo ha delle sfumature guardate cioè questo sicuramente quando farò vedere la scaletta dei colori farà tutto un altro risalto però chi non ama i colori scuri perché magari lo scuro è un po più difficile da lavorare che che i colori più chiari ce ne sono di altri colori uno più bello dell'altro fidatevi passiamo al prossimo ricordate quando mi sono sugolata per farvi capire quanto era bella la cake aran con il quale abbiamo fatto il poncio sinfonia non tutte erano propense a provare un acrilico un acrilico tra l'altro al cento per cento acrilico non eravate molto propense ma quando l'avete provato siete rimaste veramente colpite dalla bellezza di questo filato poi è andato in esaurimento poi dopo è ritornato ma sono stati dei vuoti notevoli e nel frattempo è arrivato lui il suo gemello perché la è praticamente la stessa fibra lo stesso modo di essere acrilico di acrilico dio qua non vedo niente ve l'ho detto già per la cake aran e la stessa cosa ve lo dico per la cake blues e lei la cake blues 100 per cento acrilico in ogni lotto avete 300 grammi di filato ogni gomitolone sono 100 grammi con questo voi potrete si lavora col 5 4 e mezzo 5 5 e basta che voi andate a vedere il poncio sinfonia quello col cappuccio potete utilizzare la cake blues esattamente nello stesso identico modo in cui io ho utilizzato la cake aran che in questo momento alcuni colori sono tornati altri no però lei è una gemella se non che ha delle sfumature diverse colori diversi uno più bello dell'altro uno più bello dell'altro e con la cake blues sto preparando un progetto non con questo colore perché questo lo e l'ho appena preso è uno degli ultimi colori che è nato lo trovo delizioso io poi sono pazza per il turchese quindi appena ho letto che all'interno c'è il turchese platt marina l'ha preso quindi subito perché poi primavera io i poncio li uso parecchio adesso francamente non riesco ve lo dico con franchezza se non messo sopra il cappotto quindi il poncio sul cappotto adesso è particolarmente freddo quindi non riesco ma appena il freddo cala io vado di poncio quindi un jeans una maglia e il poncio e li uso parecchio e con questo però sto facendo una mantella non in questo colore ripeto perché questo è l'ultimo colore che ho preso ma nei colori del grigio ve lo mostro ecco praticamente questa è la mantellina nuvola che sta nascendo quindi è proprio una mantella è una mantellina che va sulle spalle questo è appunto la cake blues nei colori del grigio nero bianco delizioso ma è solo solo sentirlo solo sentirlo sulla mano se chi l'ha provato sa di che cosa sto parlando ho parlato tanto veramente tanto 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 della cake a run e ripeto e la gemella e la gemella della cake a run e presto ci sarà il tutorial di questo coprispalle o adesso è talmente ancora piccolino poverino che non riesco a farvelo vedere mantellina comunque è una mantellina ritorniamo a lui perché questo è sempre la cake blues quella che vi ho mostrato è la mantellina la farò con la cake blues però ha altri colori quindi vi ho detto il quantitativo in 100 grammi ci sono 210 metri si lavora all'incirca col 5 ma prendetelo sempre come informazione poi andate con la vostra idea di mano che è la cosa più importante e non vi dico altro di questo perché della cake a run la sua gemella ve ne avevo già parlato tanto vi ho creato anche il tutorial del poncio sinfonia quindi direi che la cake blues è come se voi la conosceste se non che ci sono dei colori fantastici link sotto il tutorial passiamo al prossimo e qui entriamo in un capitolo particolare allora come io vi dicevo ho voluto provare qualcosa di veramente 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 economico perché volevo vedere effettivamente no se queste cose economiche alla fine erano valide mi è piaciuto tra quelli che io ho voluto provare il boucle mohair worsted l'ho preso in tre tonalità perché questa era la disponibilità e l'ho preso in tre tonalità vi faccio vedere il risultato allora questo è uncinetto e non è ferri se noi vogliamo fare per esempio un orsetto cioè a parte proprio l'orsetto l'orsetto vero perché questo dà proprio l'idea dell'orsetto ma proprio immaginiamo proprio una giacchina una giacchina con questo tipo di filato viene bene cioè una giacchina orsetto non so spiegarmi come voglio spiegarmi perché io appena ho fatto questo campioncino detto guarda un po verrebbe fuori bene una giacchina orsetto ok una semplice giacca proprio punto alto è niente di trascendentale fatta così magari con le varianti di colore ok in questo modo qui perché no tutte e tre dopo vedrò vedrò come farlo ecco questo sì questo sì mi è piaciuto questo mi è piaciuto ed è il 20 per cento mohair il 25 per cento lana il 45 per cento acrilico e il 10 per cento poliamide in 50 grammi abbiamo 90 metri e lo si utilizza con i ferri numero 5 allora quindi quello che io vi dicevo è ci sono dei filati che valgono veramente la pena prenderli dei filati che ne valgono valgono cioè hanno il proprio valore e altri un pochino meno vi mostro quello che mi è piaciuto poco perdonatemi quindi vi ho parlato del bucle mohair worsted tutte le volte non ridete vi vedo vi vedo se ridete io vi vedo ok e vi ha dito una per una no ridete come ridete e vi ho detto che sono 400 grammi per gomitolo ovviamente andate a vedere sul sito non vi dico più i prezzi perché una volta sola l'ho detto su un tutorial e immediatamente è arrivata la persona che mi ha detto guarda che tu hai hai detto che costa x invece adesso costa y per forza se io ve lo dico oggi il prezzo magari domani cambia come succede anche adesso ci sono degli sconti però non sempre possono essere oggi al 90 per cento io ho notato oggi al 90 per cento domani l'ottanta e dopo domani 70 cioè cambiano in continuazione e non dipende da me dipende dalla casa madre ok ok chiuso il capitolo dei tre gioiellini in offertissima regalati praticamente vi pagano se ricomprate non è così c'è una spesa anche su questo comunque sia magari aggiungetelo nel carrello è un qualcosa da fare cose particolari anche delle copertine morbidose vi faccio vedere quello che mi è piaciuto meno ok allora quello che mi è piaciuto poco è questo qua il duro secco il duro secco secondo me con questo qua con questo che adesso va bene solo fare delle spugne per lavarsi in doccia non mi è piaciuto per niente ho voluto provarlo proprio solo per capire che cosa eventualmente poter fare con questo però ragazze scusate io ripeto sono sempre molto schietta ma questo veramente non mi è piaciuto probabilmente bisognerà lavorarlo ai ferri per cercare di dargli un piccolo risalto è sempre un cell bucle 55 762 in 50 grammi sono 180 metri 60 per cento acrilico 40 per cento poliamide e basta e basta sono 400 grammi anche questo se volete fare delle belle spugne se volete fare delle belle spugne altrimenti anche no sì poi ho provato anche questo e quella sensazione che mi piace poco 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 ripeto ho voluto comunque mamma mia ho voluto comunque provare a lavorarli perché erano i più brutti e mamma mia si dice così non mi piacciono scusatemi se mi piace una cosa ve lo dico se non mi piace ve lo dico anche quindi quello che un altro che io non non vi consiglio è il bull fa bull fine 30 30 per cento lana 70 per cento acrilico e un 50 grammi 350 ce n'è anche un infinità oltretutto quindi niente ecco questi le cose che io non vi mostro perché io ne ho comprate di cose questo per fare questo spessore l'ho lavorato doppio ma ripeto questo non lo disco neanche lo prende lo cestino così com'è perché veramente un oscenità e dicevo è proprio brutto anche proprio a toccarlo ma si vede anche si vede anche quindi molti non ve li faccio neanche vedere quindi se io vi recensisco un filato e perché a mio parere veramente bello non riuscirei mi dovete credere di un carattere particolare me ne frega niente a me di vendere o non vendere se vendo bene per carità anzi ne sono felice ma non voglio vendere cose che a me non piacciono cioè perlomeno se voi le comprate di vostro o siete voi che le state testando e provandolo però io non posso veramente dirvi che questo è bello questo è bello quando in realtà non lo è fa pietà cioè ecco quanto a mio parere e poi magari tu lo prendi e dici marina non è vero e bellissimo e ci sta ci sta però se per quanto riguarda me questo filato non è bello io vi dico che non è bello ed è sempre un mio modestissimo parere ok se mi sento la casa madre mi uccidono invece questo è stratosferico rockstar fine è meraviglioso meraviglioso ora faccio un po' tolgo un po' queste fetecchie e vi faccio vedere questo ragazze vi vedo se ridete ve l'ho detto e vi vedo vi vedo e vi sento anche vogliamo parlare di filati degni di essere chiamati tale ve l'avevo già fatto vedere cinque secondi fa rockstar fine 3 mm dicono loro sempre loro dicono loro io lo sto lavorando con il 4 anzi adesso mi sto confondendo se non ho usato addirittura se non sbagliare il 4 comunque sia dopo ve lo dirò per bene e un filato vi faccio vedere questo che sto usando è un filato che ha un'anima secondo me ha un'anima questo filato tanto è bello e praticamente talmente luminoso che sembra perlato io non so se riesco a farvelo notare come come dico io l'ho anticipato anche al gruppo e di una bellezza paurosa ci sono tre colori e messi in croce proprio solo tre io ho preso questo colorino rosa che oserei dire che è un rosa cipria dovrebbe essere tipo rosa cipria è veramente delizioso allora qui abbiamo il 50 metri in 50 metri abbiamo 275 metri io per esempio per fare tutto questo pezzo sono al secondo gomitolino quindi dura parecchio 19 per cento sembra scritto quasi merlino 19 per cento merino e 70 per cento poliamide e 11 per cento acrilico deliziosissimo deliziosissimo si lavora che è una bellezza è una bellezza e vi sto facendo una stola ma non guardate adesso la stola guardate solamente se riesco è a farvi passare la luminosità la luminosità proprio del filato la morbidezza la leggerezza è un qualcosa è un qualcosa di prezioso sulla pelle ecco forse così riesco a a farvi capire di che cosa stiamo parlando io direi che con questa magnificenza perché questa è una magnificenza e ve lo detto che sono 400 grammi aspettate un secondo esattamente 400 grammi sono 400 grammi ce ne sono pochissimi veramente pochissime fortunate che riesce chi riesce ad averli a questi filati io ne ho già ho già preso l'altro l'altro colore che sfondo rosa e sopra nero sfondo si sfondo rosa e sopra sembra più scuro bellissimo e cosa dire con questo io spero di avervi anche divertita ho passato la domenica pomeriggio con voi quindi doveva essere una recensione breve invece non lo è stato e molti filati sono rimasti ancora lì ne ho ancora tantissimi ma devo chiudere la recensione spero di avervi dato un consiglio ecco è solo un consiglio quelli che do io quindi spero che avete capito la mia idea di filato ecco di filato e con questo vi saluto con un abbraccio forte forte ci vediamo nel gruppo ciao a tutti